Pressione in temporaneo aumento al suolo sulle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore, approfondimento di un'area depressionaria sul Mediterraneo occidentale, in rapido movimento verso est. In Toscana, venerdì 2 dicembre, nuvolosità in aumento con possibili precipitazioni dal tardo pomeriggio sera su Arcipelago e Grossetano, in estensione al Senese e a Retino in serata. Venti, deboli orientali in rotazione e rinforzo di Scirocco su costa Arcipelago, mari poco mossi con moto ondoso in aumento sul finire della giornata, temperature minime stazionari e un lieve calo nei fondovalle con locali gelate, massime in lieve aumento. Sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità più consistente dalla sera, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 1, massima 11 gradi, a Castelnuovo-Garfagnana e zone montane minima 0, massima 10, a Viareggio e sul litorale minima 6, massima 12 gradi. Sabato molto nuvoloso coperto, nevicate al di sopra dei 1200-1300 metri.